Una mattina mio zio, come al solito, passa per il cimitero a salutare la mamma e per me mia nonna e si trova che queste tombe non solo erano state tolte, tutte quante, ma addirittura la zona dove queste tombe c'erano non era neanche stata praticamente protetta e quindi le persone tranquillamente li camminavano sopra. Erano stati tolte i marmi, le croce, questa statua, la fotografia di mia nonna. Lì dove c'era la tomba della nonna era tutto raso al suolo. La signora Danesina e la sua famiglia erano stati avvisati della demolizione, ma stavano aspettando la convocazione di Veritas per poter assistere, convocazione che però non è mai arrivata e così hanno trovato tutto già fatto. È stato uno shock, un dolore, perché vedersi camminare queste persone sopra è stato come riaprire un'altra ferita. Dobbiamo considerare che quando c'è un moto in una famiglia è difficile riprendere la normalità. L'unica cosa che ci lega è questo fatto di avere questa tomba, di avere questi affetti, di avere questi... siamo attenti a prendere anche la statua giusta che dia un significato a questa persona. Quindi queste cose che noi mettiamo sulle tombe non sono too cool. Il fatto risale al 2009. A quel punto la signora Danesina, residente a Campalto, dopo aver protestato senza risultati con Veritas e aver sporto denuncia ai carabinieri, ha deciso di rivolgersi all'Adi con l'Associazione Difesa Consumatori per denunciare l'accaduto. Con questa demolazione non hanno potuto recuperare nulla. Quando capitano queste cose certamente ogni oggetto diventa sempre un oggetto di grande valore, ma soprattutto racconta la socia che c'era anche una statuetta fatta proprio per l'occasione della signora defunta. Certamente la signora non si era assegnata. L'Adi con pensato di agire nei confronti della Veritas perché questa venga risarcita nella maniera più opportuna che possa ottenere conto delle richieste della signora. Ora verrà chiesto un risarcimento per danni morali e materiali, ma il dolore non si potrà cancellare così facilmente. Certamente si può pensare a una forma di sacrilegio che non tiene conto di quelle che ormai sono le condizioni in cui questa persona avversa, a cui veramente anche noi, fatichiamo in questi giorni a dare conforto.